Rifiuti nel Cilento, i lavoratori del Corisa 4 stracciano le tessere sindacali e sono pronti ad avviare le procedure legali. In segno di protesta, questa mattina hanno revocato le adesioni e iscrizioni alle varie organizzazioni sindacali. Nella riorganizzazione del servizio sul territorio cilentano non sono stati tutelati i loro diritti occupazionali, così come previsto dalla legge regionale. Emblematico quanto sarebbe accaduto a Vallo della Lucania, il comune, ricordiamo, affidato ad una ditta privata il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Nella riorganizzazione del servizio sono stati assunti una ventina di operai della Iele, rimanendo fuori altri lavoratori del Corisa e della stessa Iele. Ad un incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra le parti e le organizzazioni sindacali non è stato però invitato il commissario del Consorzio Giuseppe Vitale. Nei giorni scorsi lo stesso commissario, in una nota inviata al sindaco di Vallo Antonio Aloia, al direttore della Iele Sergio Di Blasi e ai vertici provinciali e regionali, ha denunciato proprio il mancato rispetto della normativa, chiedendo spiegazioni sulla procedura del servizio adottata dal comune di Vallo della Lucania, che sicuramente non è esente da censura. A tal proposito diversi lavoratori ritengono violati i loro diritti e sono pronti ad adire alle vie legali. Il personale da utilizzare nella riorganizzazione del servizio, ribadisce il commissario, va individuato tra quello presente negli elenchi, di cui è menzione nella legge regionale. A Vallo, nel passaggio ieli a ditta privata, non sarebbe stata rispettata l'anzianità di servizio, con l'inorservanza dunque della legge regionale.